L'isola del lusso e delle bellezze naturali è stata segnata da un incidente mortale che ha visto protagonisti una Ferrari e un camper. Un sorpasso azzardato, una manovra sbagliata e per gli occupanti della Ferrari è finita nel peggiore dei modi. Ma la realtà ci riserva delle sorprese sui veri responsabili del tragico incidente. Questo è Italian Reporter 24, il tuo canale di informazione, cronaca e approfondimento. Sulla Lamborghini che precedeva la Ferrari, gli occupanti sono un magnate indiano e una star di Bollywood. Ma cosa c'entrano loro? L'incidente in questione ha avuto luogo a San Giovanni-Suergiu, nel sud della Sardegna, durante un raduno di auto sportive di lusso. Due turisti svizzeri, Marcus Krautli e Melissa Krautli, di 67 e 63 anni, sono morti carbonizzati a bordo di una Ferrari Portofino in seguito a una collisione con una Lamborghini. Uracan guidata dal magnate indiano Vikas Ranviroberoi e dalla celebre attrice di Bollywood, Gayatri Joshi. Metti un like al video ed iscriviti al canale per nuovi notizie e aggiornamenti. L'ipotesi di reato è quella di duplice omicidio stradale, punibile con la reclusione da 2 a 7 anni secondo l'articolo 589 bis del Codice Penale Italiano. La dinamica dell'incidente sembra essere stata provocata da una manovra azzardata della Lamborghini, che ha superato una striscia continua, causando il contatto con la Ferrari e successivamente un rogo tragico. Cosa pensate della condotta del magnate indiano Oberoi e della star di Bollywood nell'incidente in Sardegna? Questo incidente ha sollevato numerose domande sulla responsabilità dell'indiano Oberoi e sulla sicurezza durante gli eventi automobilistici di lusso. La coppia svizzera ha perso la vita in circostanze tragiche, mentre il magnate e l'attrice sono rimasti illesi. Cosa succederà ora? Quali saranno le conseguenze per Oberoi? Un tragico incidente che poteva essere evitato semplicemente rispettando le semplici regole del Codice della strada. Restate con noi per seguire questa vicenda, iscrivendovi al canale.